Anacardi. Proprietà, benefici e controindicazioni. Benvenuti, oggi parliamo degli anacardi. Un frutto a guscio molto apprezzato e ricco di proprietà benefiche. Originari del Brasile, gli anacardi sono noti per il loro gusto unico e la loro versatilità in cucina. Gli anacardi sono una fonte eccellente di vitamine e minerali, come il rame, il magnesio e le vitamine del gruppo B. Questi nutrienti sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo e per mantenerci in buona salute. Uno dei principali benefici degli anacardi è la loro capacità di migliorare la salute del cuore. Contengono grassi monoinsaturi, che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo cattivo e ad aumentare quelli del colesterolo buono. Gli anacardi sono anche eccellenti per la salute dell'osso. Contengono magnesio, un minerale che aiuta a mantenere forti le nostre ossa. Inoltre, gli anacardi sono una buona fonte di calcio, che è essenziale per la salute dell'osso. Un altro beneficio degli anacardi è il loro contenuto di fibre. Le fibre aiutano a regolare il sistema digestivo, prevenendo problemi come la stitichezza. Inoltre, le fibre possono aiutare a mantenere un peso sano, poiché aumentano la sensazione di sazietà. Gli anacardi sono anche ricchi di antiossidanti, che aiutano a proteggere il nostro corpo dai danni dei radicali liberi. Questo può aiutare a prevenire malattie croniche come il cancro e le malattie cardiache. Nonostante i numerosi benefici, è importante consumare gli anacardi con moderazione. Questo perché sono abbastanza calorici e possono portare a un aumento di peso se consumati in eccesso. Inoltre, alcune persone possono essere allergiche agli anacardi. In caso di allergia, è possibile sperimentare sintomi come prurito, gonfiore e difficoltà respiratorie. Se sospetti di essere allergico agli anacardi, è importante evitare il loro consumo e consultare un medico. Inoltre, gli anacardi sono spesso venduti salati o tostati, il che può aumentare il loro contenuto di sodio e grassi. Per questo motivo, è preferibile scegliere anacardi crudi o non salati per massimizzare i loro benefici per la salute. In conclusione, gli anacardi sono un alimento nutriente e benefico che può essere un'ottima aggiunta a una dieta equilibrata. Ricordate sempre di consumarli con moderazione e di scegliere opzioni non salate o crude quando possibile. Grazie per averci seguito in questa discussione sugli anacardi. Speriamo che le informazioni fornite vi siano state utili e vi incoraggino a includere gli anacardi nella vostra dieta. Ricordate, la chiave è sempre un consumo equilibrato e consapevole. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Teasily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. Se ti è piaciuto questo video sugli anacardi e vuoi scoprire altre interessanti proprietà e benefici di altri alimenti sani, iscriviti al nostro canale StoreBene per non perdere le prossime aggiunte. Clicca mi piace e condividi questo video con i tuoi amici per diffondere la conoscenza su una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Grazie per il supporto e ci vediamo al prossimo video.